Frenata in chiave europea per la Lazio nell'anticipo serale del sabato che ha aperto la diciannovesima giornata di ritorno della Serie A. I bianco-celesti di Tudor sono stati costretti al pareggio per 2-2 da un Monza ormai tranquillo. Vantaggio bianco-celeste con Inmobile, poi il pareggio di Diuric. Nella ripresa la Lazio si riporta avanti con Vesino ma nel finale di tempo ed in piena zona Cesarini Diuric sigla il 2-2 definitivo. Tre punti pesanti in chiave salvezza per il Sassuolo che batte il neocampione d'Italia dell'Inter con il punteggio di 1-0 grazie alla rete arrivata al ventesimo minuto del primo tempo dall'Oriente. In chiave salvezza domenica attenzione puntata soprattutto su Cagliari Lecce con i Sardi alla ricerca di punti importantissimi. in chiave salvezza mentre i Salentini sono un po' più tranquilli così come anche per Empoli-Prosinone e Verona-Piorentina con spicchio europeo per gli Scaligeri. a completare il turno anche per quanto riguarda la tranche dominicale alle 18.00 Milan-Genua a San Siro e poi alle 20.45 Roma-Juventus con i giallorossi di De Rossi alla riscatto dopo la sconvinta subita in Europa League.